buonasera buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di come se fosse facile l'approfondimento televisivo di rimini sociale come tutte le settimane come tutti i venerdì vi raccontiamo le storie che andiamo a scovare che portano una luce nuova e diversa su questo vasto mondo del sociale. Il primo servizio che guardiamo adesso ci porta indietro di qualche settimana perché alla fine dell'estate tra fine agosto e i primi di settembre ha riaperto la scuola, il doposcuola dell'istituto Italia-Cina di San Nicolò, il doposcuola che aveva chiuso a causa del covid e delle restrizioni dovute alla pandemia e che aveva quindi colpito in modo piuttosto pesante la comunità cinese che si era vista togliere degli spazi che negli anni erano diventati molto richiesti è tornata finalmente a poter mettere all'aperto e negli spazi interni della chiesa di San Nicolò vicino alla stazione tutti i corsi appunto per i ragazzi della comunità cinese. Noi siamo andati a vedere com'è ripartita sperando ovviamente che poi la situazione non costringa a passi indietro. Vediamo il servizio e poi torniamo qui in studio. La pandemia aveva spazzato via tutto. L'attività del centro Italia-Cina di San Nicolò gestito dalla comunità di Montetauro si è bloccata lo scorso gennaio ma a differenza del resto del paese non è più ripartita lasciando la comunità cinese nel più totale isolamento. Ora la situazione è cambiata e i ragazzi e le famiglie della comunità sono ritornate per l'aiuto ai compiti, i laboratori manuali, quelli di cucina, i corsi di italiano e cinese e tante altre attività. Attività che rientra tra le azioni promosse da Apprendo, progetto sostenuto da Con i Bambini, Fondo per le Povertà Educative, coordinato dalla cooperativa riminese il millepiedi. La riapertura è stata molto buona, noi siamo molto contenti. I ragazzi sono venuti, abbiamo circa quasi 50 bambini qua di iscritti che si avvicendano nelle attività e mentre a Savignano abbiamo una trentina di iscritti, di bambini e ragazzi iscritti. Le attività sono abbastanza simili a prima quindi facciamo tutto un po' più all'aperto ma le attività sono tre giorni dove c'è più studio e meno gioco e due giorni in cui c'è più gioco e meno studio. Quindi non lasciamo mai l'aiuto ai compiti, tutti i giorni facciamo aiuto ai compiti ai bambini perché hanno bisogno soprattutto di questo. Diamo una mano soprattutto nell'italiano, nella lingua dell'italiano, aiutiamo le scuole in stretta collaborazione con i maestri e con i professori delle scuole. Questo ci impegna molto perché poi tenere le relazioni con le scuole non è sempre immediato ma ci impegniamo anche in questo a collaborare. E infine il cinese, questo è molto richiesto dai genitori e per loro stessi è una ricchezza che va ad aggiungersi a quello che poi studiano nelle nostre scuole. Per quanto riguarda le attività, quest'anno in particolare abbiamo continuato con un gruppetto di maschi grandi a fare la scuola di calcio e quindi a dargli uno spirito di squadra. Loro si conoscono però non si frequentano a scuola, si frequentano solo qui e quindi per loro fare una squadra è già una sfida. In più giocare a calcio molti di loro non sanno neanche cosa vuol dire perché chi è venuto dalla Cina col calcio ha avuto pochissima esperienza, i piedi non li sa usare e gli diamo l'opportunità di fare qualcosa che in Cina adesso sta andando molto di moda ma che qui in Italia è proprio il nostro, il nostro tipico. Con le ragazze più grandi abbiamo fatto una piccola scuola di cucina con qualche specialità non solo dolce anche salata, molto casareccia, quindi anche la piadina e cose del genere e con i piccolini invece attività manuali. Il valore di queste attività non sta soltanto nei corsi ma anche nei legami che la comunità sviluppa. Sono 50 i bambini che ogni mattina partecipano. Abbiamo trovato delle situazioni che effettivamente più compromesse rispetto a un anno e mezzo fa, situazioni cioè di famiglie, di bambini che si vede, hanno sofferto la chiusura in termini di capacità di giocare insieme, in termini di espressione, in termini di riuscire a stare insieme agli altri, di saper giocare con gli altri, di sapersi impegnare e questo l'abbiamo visto, è certamente un peggioramento. Per quanto riguarda la lingua non abbiamo visto almeno qui a Rimini un grande calo, forse la scuola ha fatto la sua parte anche con tutte le difficoltà ma forse è riuscita a tamponare, non abbiamo visto dei particolari cali, ci aspettavamo un calo nella lingua italiana, cioè la chiusura portava poi alla chiusura in casa e quindi ha un ambiente che dal punto di vista della lingua è monotono, cioè c'è solo il cinese nella casa. Invece no, abbiamo visto almeno qui a Rimini, hanno mantenuto bene la lingua italiana, si è ripreso bene, viceversa a Savignano abbiamo questo problema qua invece è emerso di più e quindi la lingua italiana è quasi come se, non dico che l'avessero perso, ma alcuni di loro l'hanno, è molto peggiorato il rapporto con la lingua italiana. Alla notizia della riapertura è stata grande la gioia della comunità cinese, tanto che le attività previste all'inizio per il solo mese di luglio proseguiranno probabilmente per tutta l'estate. Mi dispiace che durante questo più di un anno, pandemia, la famiglia non è perso perché non si può venire qui, però non è proprio perso, anche sul cellulare, computer, noi colleghi sempre ci sentiamo insieme, soprattutto anche qualche famiglia durante la pandemia, ci hanno chiesto aiuto perché i bambini nella casa è difficile e loro sempre mi hanno detto così, perché loro a casa della cina sono molto bravi, perché a casa loro non vogliono sentire le parole dei genitori, quindi qualche volta ci hanno chiesto aiuto. Quest'estate, quando noi abbiamo pubblicato questa notizia, vogliamo aprire questo centro, loro molto contenti, quindi subito che i genitori mi hanno chiesto a quando apriamo, quando cominciamo, molto contentissimo, anche se loro ancora poco paura, perché non è ancora passato, però alla fine io prima ho pensato forse, pensavo forse massimo 30 bambini, però invece adesso 50, quindi anche noi molto contenti. Adesso anche tanti genitori ci hanno chiesto per continuare, noi infatti vogliamo solo luglio, un mese, adesso loro ho pensato che troppo poco e voglio continuare almeno due mesi. Rieccoci qui, adesso parliamo invece di un altro argomento e lo facciamo qui in studio con un ospite davvero gradito che accogliamo sempre molto volentieri. E' con noi infatti Laura Fontana, responsabile dell'attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini e anche affermata e conosciutissima studiosa della Shoah. Ciao Laura, buonasera. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Qui questa sera si investe soprattutto di autrice di un libro che ha riscosso anche un grande successo al Festival del Libro di Torino che è Gli italiani ad Auschwitz, lo facciamo vedere un bel tomo insomma che adesso insieme a Laura racconteremo e cercheremo diciamo così di entrare un po' tra le sue pagine. Tra l'altro prima di lasciare la parola a Laura voglio ricordare che proprio questa domenica, domenica 21 novembre alle 17.30 ci sarà la presentazione ufficiale al Teatro degli Atti di Rimini e Laura discuterà, parlerà del libro. Sarà presente anche Jamil Sadegolvad, sindaco di Rimini e Oriana Maroni, presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini. Laura, tanto grazie per essere qui con noi questa sera, è un libro sicuramente che ti avrà impegnato per parecchio tempo, l'argomento è il tuo, lo conosci però quando si lavora tra le fonti, quando si mettono insieme storie, persone che hanno dei vissuti anche tragici, insomma immagino che il lavoro ti abbia coinvolto parecchio in questi anni. Sì, intanto mi fa veramente piacere essere qui con voi e che avete sempre avuto grande attenzione per il mio lavoro, sia quello che svolgo per l'attività di educazione della memoria che il mio lavoro di storica. Questo è un libro per me importante Stefano, effettivamente perché arriva dopo cinque anni di ricerca negli archivi di mezza Europa ed è un libro con il quale io credo di insomma dare un contributo per riscrivere la storia degli italiani e delle italiane che sono stati deportati ad Auschwitz. Vedi la storia è sempre stata raccontata su due piani molto separati, la storia della Shoah, quindi la persecuzione e lo sterminio degli ebrei e poi la storia della deportazione politica, che chiaramente sono due politiche naziste completamente differenti e non vanno amalgamate. Io ho voluto provare a tenere insieme questi due fenomeni e soprattutto le storie. La mia è una storia al plurale perché credo che non sia molto conosciuto, nemmeno io ero a conoscenza di queste proporzioni quando ho incominciato la ricerca anni fa, che più di 1200 italiani e italiane non ebrei sono stati deportati ad Auschwitz insieme appunto agli ebrei. Quindi le storie sono tante, sono diverse, io ho cercato di raccontarle e ho cercato soprattutto di fare due cose. Da un lato di consegnare un racconto plurale, complessivo e composito appunto al pubblico italiano ma non solo italiano e quindi anche dare delle cifre, dare dei numeri tra cui ho anticipato questi almeno 1200 non ebrei. Poi però mi sono anche soffermata su quelli che hanno subito la prigionia ad Auschwitz perché la differenza fondamentale, che è conosciuta ma magari un po' delle volte così minimizzata, è che gli ebrei sono stati deportati ad Auschwitz, quindi gli italiani come gli ebrei europei, per essere uccisi. Quindi non sono stati imprigionati ad Auschwitz, solamente una piccola percentuale è stata risparmiata dalla morte immediata per lavorare nel campo, tra cui Liliana Segre, Primo Levi eccetera, ma veramente una piccola minoranza. Invece i deportati politici, che però è una definizione nazista molto generica, sono stati tutti deportati per essere imprigionati e per essere appunto sfruttati come lavoratori forzati. Quindi io mi sono chiesta se nell'esperienza del Lager ci fossero degli elementi comuni e secondo me ci sono degli elementi al contempo diversi per gli ebrei che hanno comunque sempre subito un trattamento particolarmente crudele, ma ci sono anche degli elementi comuni e su questo io ho provato a intrecciare delle storie che compongono questo libro un po' come un racconto corale, quindi i bambini, i medici, le donne, molte donne sono protagoniste di questo libro. È stato un libro sofferto, sono sincera, perché una volta che si incomincia così a scavare nei vissuti individuali e trovi proprio nome, cognome, cioè inizi veramente a ricostruire una biografia ti non rimani indifferente. Ti emozioni, tantissime storie veramente dimenticate, tante donne, ragazzine che sono state deportate ad Auschwitz come operaie, rastrellate per il lavoro forzato. Quindi sai, è diventato poi anche un impegno, un impegno per tenere viva la memoria affinché queste storie non venissero dimenticate. Quindi direi un lavoro che si sviluppa tra la storia, la ricerca, molto rigorosa, io penso di essere stata rigorosa, il libro sono 500 pagine, non so quante migliaia di note, ma è anche un racconto per tutti, quindi non un saggio accademico per pochi addetti ai lavori, ma speriamo un racconto veramente che possa interessare tutti. Che possa arrivare a una vasta platea. La prima domanda che mi viene da farti, tu l'hai accennata ed è proprio una curiosità riguardo a questi due gruppi di deportati, erano in questo vasto mondo che poi era Auschwitz, erano due mondi paralleli o in qualche modo sapevano l'uno dell'altro, si incrociavano un po' questi destini? Beh, la tua è una domanda molto interessante perché indubbiamente per gli ebrei italiani Auschwitz era stata individuata appunto dalle autorità occupanti naziste come centro di esterminio. E già il dato sulla Shoah che è stata studiata in maniera eccellente dagli storici che conosciamo, del CEDEC eccetera, dimostra come oltre il 90% degli ebrei deportati dall'Italia, italiani o non italiani restati in Italia, vanno ad Auschwitz per essere uccisi. Invece i deportati politici, ma poi questa categoria magari la possiamo anche discutere, non si sa bene perché vadano ad Auschwitz, soprattutto le donne, probabilmente per essere sfruttate come lavoratrici forzate. Anche se poi nel libro io indago di quale lavoro in realtà si sia trattato esattamente. Allora, chiaramente per quanto riguarda gli ebrei che sono stati risparmiati appunto dalla morte immediata che hanno lavorato nel complesso di Auschwitz, Auschwitz era più di 40 campi di lavoro, lo dobbiamo ricordare, e lo stesso Birkenau, centro di esterminio, era anche campo di concentramento. Ebbene in molti casi, soprattutto nel caso delle donne, le donne italiane ebree e non ebree spesso hanno condiviso la stessa baracca, la stessa squadra di lavoro, diciamo la stessa situazione. Quindi le politiche che erano considerate ariane dai nazisti, quindi che non erano deportate ad Auschwitz per essere uccise, poi nel lager si poteva morire anche 5 secondi dopo l'arrivo, immediatamente percepivano la differenza di trattamento con gli ebrei, per due ragioni, perché le donne erano imprigionate nel campo femminile, principalmente non solo, ma nel campo femminile di Birkenau, che era pochi metri dai crematori, quindi dalle camere a gas, quindi era impossibile non vedere, non sentire l'odore di carne bruciata, il fumo, e soprattutto vedevano arrivare i trasporti, vedevano arrivare continuamente questi trasporti di ebrei, perché una differenza fondamentale è che gli ebrei vengono deportati sempre per gruppi familiari, le donne con i bambini, i vecchi, i malati, gli infermi, una persona in carcella, invece i deportati politici, metto tra virgolette questa categoria ancora una volta di politici, sono arrestati individualmente, quindi quella donna, quell'uomo, arrestato per una ragione magari razionale oppure irrazionale, perché magari sono vittime di un rastrellamento, e quindi anche questa è una differenza, essere arrestato ma sapere che i tuoi figli però sono rimasti a casa, al sicuro, cioè psicologicamente è un'altra condizione. C'è un approccio completamente diverso. Esatto, poi le condizioni del lager, della prigionia, l'ha detto meglio di chiunque altro, per molevi, la fame, la tortura, queste sono un'esperienza purtroppo trasversale che ha comunato tutti, ma rimane però quella distinzione fondamentale che gli ebrei, comunque anche quelli risparmiati per il lavoro, sono sempre i primi a essere selezionati per la camera gas. Laura, tu ti occupi, segui questi argomenti da tanti anni, e per fortuna di Shoah, di deportazioni, se ne parla tanto, verrebbe poi da capire l'impatto di questo parlare, perché a sentire poi certi commenti della società, nel senso più vasto, pare che sia ancora difficile fare, diciamo, percepire davvero quello che è successo. Ma quello che ti voglio chiedere adesso in particolare è, dopo tanti anni da quello che è successo, dopo tanti analisi, questo tuo libro cosa porta di nuovo alla conoscenza di questo vasto e orribile fenomeno? Beh, secondo me almeno un paio di punti credo che contribuiscano a gettare uno sguardo nuovo. Innanzitutto io sottolineo la dimensione polivalente di Auschwitz, che viene continuamente ignorata anche dalle ricostruzioni storiche. Auschwitz è stato, dal 1942 fino alla fine, uno dei principali centri di esterminio per gli ebrei, quindi oltre il 90% delle vittime sono stati gli ebrei. Questo non può essere negato da nessuno, ci sono prove, ci sono fonti, è stata ricostruita, quindi questa è la specificità di Auschwitz come centro di esterminio. Ma non possiamo dimenticare che fino alla fine, e fino alla fine intendo fino al 13 gennaio 1945, ci sono i documenti anche nel libro, Auschwitz come industria, come città industriale nazista continua a funzionare. Cioè i nazisti volevano abitare Auschwitz, non campo, Auschwitz come luogo, e quindi ci costruiscono, installano veramente centinaia di fabbriche, perché altrimenti non si capisce per quale ragione, ad esempio, gli italiani, i lavoratori specializzati, ma anche i medici, i medici erano spesso selezionati in trasporti speciali, perché Auschwitz, essendo un campo gigantesco, aveva bisogno di medici. Mi sono chiesta come mai, ad esempio, dei lavoratori specializzati da vari campi di concentramento, in particolare da Mauthausen, in cui ci sono 165 italiani, segnati come italiani, siano stati inviati ad Auschwitz, da Mauthausen, il 2 dicembre 1944. Chi conosce la storia della Shoah sa che già da ottobre 1944 le uccisioni nelle camere gas ad Auschwitz sono terminate per volontà di Himmler, quindi potremmo dire che la maggioranza delle vittime sono già state assassinate. Dicembre 1944 l'armata rossa è a pochissima distanza, è al di là della vistola, quindi tutto questo si spiega solamente se tu rimetti, diciamo, al centro anche dell'indagine Auschwitz come luogo polivalente, cioè come luogo che è servito per il lavoro forzato, come industria e soprattutto, Stefano, un'altra novità che io porto nel libro, c'è un capitolo sui lavoratori civili italiani. I primi lavoratori civili italiani, migliaia, arrivano nella primavera a 1942, l'Italia è occupata a settembre 1943, quindi un anno e mezzo prima, perché arrivano ad Auschwitz? Auschwitz non campo di concentramento, Auschwitz è sempre complesso di industria, arrivano perché le industrie fasciste fanno un accordo con il Reich e quindi mandano muratori, operai specializzati, eccetera, eccetera, li mandano a lavorare lì, ma questi lavoratori civili volontari, che non centrano nulla con i deportati, con i prigionieri, immagino dopo l'8 settembre come si siano trovati. Guarda, io ho trovato, ci sono nel libro, perché si trovano i libretti di lavoro di queste persone che hanno quindi un contratto di lavoro, sono assunte dalla IG Farben, dalle grandi aziende tedesche che sono nel complesso di Auschwitz, ci sono ragazze italiane di 18 anni che arrivano ad Auschwitz e hanno il libretto di lavoro, nell'agosto 1944, che uno si chiede, una ragazza di 18 anni dal Veneto che fa la lavandaia e che attraversa mezza Europa per cercare lavoro anche dalla disperazione, eccetera, non sapeva nulla di quello che poteva succedere in quel luogo, come era possibile tutto questo? E quindi per rispondere alla tua domanda, io credo che uno degli elementi che io voglio porre in discussione è anche il ruolo dei civili, la complicità dei civili, le industrie tedesche, cioè tutti coloro che hanno lucrato su Auschwitz e che hanno appunto avuto bisogno di letteralmente svariate migliaia di schiavi da tutta Europa, tra cui italiani, ecco, con una distinzione però sempre tra i prigionieri, quindi i deportati del Lager, quindi Primo Levi, eccetera, e invece i civili. Non dimentichiamoci che Primo Levi incontra un muratore di Cuneo, questa storia è spesso dimenticata, non ne capisco la ragione, ma una delle ragioni che Primo Levi interpreta spiegando la sua salvezza non è tanto il fatto che lui facesse il chimico, perché poi Primo Levi, il chimico nel Lager, l'ha fatto le ultime settimane, quindi anche questa interpretazione andrebbe un attimo rivista. Primo Levi a un certo punto, nell'estate 44, incontra lavorando un muratore che è un civile, quindi è libero, ha scelto lui per disperazione, per ignoranza, non sappiamo le sue ragioni, e che lavora. E questo muratore, Lorenzo Perrone, che era anche una persona umile, analfabeta, insomma, eccetera, gli salva la vita perché per mesi e mesi di nascosto gli porta da mangiare, addirittura scrive, lui che è analfabeta, sotto dettatura, sono riportati nel libro, adesso mi emoziona anche dirlo, scrive tre lettere che Primo Levi vuole mandare alla famiglia per far sapere che è vivo, ma le manda attraverso un'amica, eccetera, eccetera. E quindi per dire, questo muratore rappresenta la presenza dei civili che costeggiavano l'universo dei prigionieri, quindi due mondi paralleli, ma che rimandano però a politiche criminali, insomma, che vanno un po' spiegate, per spiegare anche il funzionamento di Auschwitz, cinque anni di funzionamento di un complesso gigantesco, perché altrimenti è difficile spiegare perché delle ragazze di 15-16 anni da Trieste vengono mandate ad Auschwitz. Auschwitz non era un campo per le politiche italiane, c'era Ravensbruck, perché vengono mandate ad Auschwitz? Perché in linea d'aria era più vicino il collegamento ferroviario, una spiegazione un po' semplice, no? Questa, probabilmente ecco, magari io cerco di mettere in discussione anche questo ruolo economico di Auschwitz che non, diciamo, spiega né minimizza nulla per quanto riguarda la Shoah, però parallelamente esiste, non possiamo non sapere che esiste. Ad Auschwitz allevavano conigli d'angora, pregiatissimi, quindi, uno dice, allevavano conigli d'angora, c'erano anche allevamenti... C'era anche quello. C'era anche quello, e quindi c'era anche quello perché era un'industria in cui i tedeschi volevano vivere, e io ho citato il 13 gennaio 45 perché l'ultimo treno dei civili tedeschi lascia Auschwitz con la linea ferroviaria il 13 gennaio, quando i russi sono praticamente già alle porte, quindi fino alla fine non scappano, rimangono lì, evacuano i prigionieri, ma loro vogliono rivedere lì, e hanno bisogno di schiavi ovviamente. Tra l'altro, hai accennato una domanda che volevo farti, che è un po' la grande domanda, non so, anzi immagino che non ci sia proprio una risposta neanche a scartabellare tra le fonti, ma come può una società civile accettare di lavorare sapendo quello che accade in un luogo come Auschwitz? Beh, guarda, io nel libro dedico solo un capitolo ai lavoratori civili perché sarebbe un altro libro, quindi questa magari è una ricerca che lascio anche ad altri studiosi che già hanno iniziato ad approfondire l'argomento. Sicuramente sono rimasta molto colpita perché ad esempio c'è un tedesco Hans Deichmann che è il procuratore, cioè lui praticamente ha come ruolo colui che va in Italia periodicamente perché deve reclutare a mano d'opera, parlo sempre di civili, quindi volontari, perché devono essere assunti nelle industrie tedesche. Questo Deichmann che scrive delle lettere, poi ha lasciato delle testimonianze, anche queste mi sono chiesta come mai non siano più conosciute di quanto meriterebbero, lui ad esempio scrive immediatamente che la situazione è paradossale perché è palese che si stia lavorando accanto a un centro di sterminio e dice tra l'altro che gli italiani, perché poi questi lavoratori civili italiani non testimoniano, ci sono pochissime testimonianze per varie ragioni, reticenza, imbarazzo, perché magari uno doveva spiegare perché è andato a lavorare lì, quindi magari anche mescolando colpe senza avere colpe. E lui racconta che ad esempio diversi italiani scappano dopo pochi giorni perché si rendono conto che sono capitati in un luogo infernale, non perché loro siano coinvolti nel campo di concentramento, ma perché questa contiguità è impossibile da accettare. Esatto, non si può non notare. Esatto, Deichmann che è un tedesco quindi lavora per il Reich, è un civile, non è un SS, ha degli scrupoli di coscienza, poi maturerà la sua scelta eccetera, molti altri non l'hanno avuto. Non dimentichiamo che ad Auschwitz lavorano migliaia di donne, donne civili, cioè Auschwitz aveva bisogno di segretarie, interpreti, dattilografi, lavandaie, cameriere, cuoche e quindi la domanda si amplifica a tutte le categorie. C'è, adesso farò probabilmente una citazione errata, ma se non ricordo male anche nel libro di racconti di Primo Levi, nella tavola periodica c'è a un certo punto un lavoratore tedesco che lo contatta dopo che Primo Levi pubblica il suo primo libro, Se questo è un uomo, perché ricorda della sua presenza ad Auschwitz e c'è poi questo momento di imbarazzo quando lui risponde e questo civile tedesco non sa più a un certo punto come argomentare. Immagino che comunque da un lato ci siano le esigenze della guerra, di sopravvivenza che spingono spesso le persone a mettere da parte un po' l'umanità, però poi quando questa viene sbattuta in faccia uno faccia fatica a evitare il confronto. Sì, credo che vada tenuto distinto la dimensione dei tedeschi senza colpevolizzare un'intera popolo, però i tedeschi erano parte del Terzo Reich, avevano respirato questo desiderio utopico di Hitler di costruire l'impero dei mille anni, quindi quando tu sei parte del popolo destinato a comandare il mondo, respiri un po' questa area di grandezza che fa sì che comunque a Est, a Auschwitz tra l'altro è in Germania, nel senso che è il territorio annesso al Reich, quindi andare a lavorare fuori confini ma sempre in Germania contribuiva così. Non dimentichiamoci che avevano degli ottimi stipendi, erano condizioni anche gli stessi ufficiali dell'SS che accettavano di lavorare nei campi di concentramento, era meglio lavorare in un campo di concentramento che al fronte eri meglio pagato, era un lavoro meno pericoloso eccetera. Ecco, distinguerei questo piano così macro dei tedeschi senza farne una colpa collettiva invece dai lavoratori civili dei paesi europei come ad esempio gli italiani perché lì bisogna però indagare le biografie perché generalizzare poi non ci aiuta, ho fatto il caso di queste ragazze perché ne ho trovate diverse, veramente di diciottenni che addirittura nella scheda che compilano, anche questo mi ha colpito, compilano una scheda in tedesco dove dicono chi sono, come si chiamano, dove abitano eccetera, che cosa sanno fare e alla domanda chi avvisare in caso di problemi, di necessità, eravamo in tempi di guerra eccetera, alcune ragazze scrivono in tedesco Niemann, nessuno, quindi mi sono chiesto che queste ragazze partono proprio disperate, allora è difficile giudicare oggi le ragioni per le quali portano delle persone ad andare così lontano a lavorare, sicuramente erano totalmente ignare della realtà di Auschwitz perché gli stessi deportati italiani, ebrei e non ebrei che vanno ad Auschwitz non immaginavano ovviamente la realtà terrificante che avrebbero visto. Poi dopo la guerra molti di questi lavoratori civili o non testimoniano per pudore, per paura di essere accusati di qualcosa che avrebbero dovuto giustificare, oppure ho trovato anche casi di persone che cercano di farsi passare come ex deportati per avere diritto ai risarcimento eccetera. Anche questo credo che non vada giudicato oggi così con leggerezza, ma vada proprio inquadrato anche proprio in tutta la situazione della fine della guerra, dell'Italia che era un paese alleato occupato, oppure la Repubblica di Salò era alleato ancora, oppure era solo stato vassallo, quindi diciamo tutto il trattamento anche che l'Italia ha subito di saccheggio delle risorse, di incentivare gli italiani a andare a lavorare appunto per il Reich, perché poi Hitler l'aveva perteso da Mussolini, insomma anche come contingente di uomini. La situazione è abbastanza complessa, diciamo che io ho cercato ogni volta anche di dare degli esempi, di raccontare delle storie proprio per non rendere tutto troppo astratto e spero insomma anche con i documenti che ci sono nel libro possa essere interessante anche proprio capire le persone, le varie esperienze che possono avere avuto e non confondere mai deportati, prigionieri, la Shoah, i lavoratori civili, insomma insieme nel racconto sì, perché comunque è la storia italiana, il mio libro si intitola Gli italiani ad Auschwitz, quindi comprende tutti gli italiani che sono stati ad Auschwitz, però poi ovviamente da storica con il distingo che insomma occorre fare. Tra l'altro da storica ci hai aperto un mondo nel senso che appunto con Auschwitz, spesso nella cultura popolare si intende solo il campo di stermini, invece come ci hai appena raccontato e come racconti nel tuo libro in realtà è un centro molto più ampio. Noi siamo ormai in chiusura, io però prima di lasciarti non posso non farti una domanda sull'attualità di cui immagino già la tua risposta ma voglio sentirla con le tue parole perché io non lo saprei dire bene allo stesso modo. Siamo in tempo di proteste, non Green Pass, alcune in modo così direi proprio sfacciato si paragonano alle vittime della Shoah e dei campi di concentramento, un paragone davvero estremamente forzato e anche irrispettoso, vorrei un pensiero da parte tua. Guarda, peraltro anticipo che il 2 dicembre la presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso Milena Santerini che è la coordinatrice nazionale della Commissione Antisemitismo organizza un grosso evento online in presenza proprio sull'antisemitismo oggi ma anche toccando queste derive che appunto con l'antisemitismo non ci trarrebbero nulla ma invece insomma cavalcano un po' un'onda di risentimento. Io lo trovo semplicemente offensivo e anche vergognoso perché veramente non trovo nessun paragone possibile. Allora in storia si può comparare tutto con il metodo della storia e quindi è una disciplina la storia. Non capisco come si possa anche solo lontanamente pensare, mi arrabbio molto quando le persone lo fanno, paragonare una situazione sanitaria dove ci sono comunque delle condizioni di pandemia e tu hai la scelta di vaccinarti, di farti un tampone o comunque ci sono delle regole per la convivenza civile e appunto per poter lavorare, per poter continuare ad avere una vita, chiamiamola quasi normale, non capisco cosa centri con la Shoah che è stato un progetto di genocidio, di messa a morte, di condannare a morte delle persone, come dice Liliana Segre, per la colpa di essere nate. Qual è il paragone? Non tiene, perché non tiene neanche, la Shoah può essere paragonata a tante altre forme di violenza, massacri di massa eccetera e ogni volta che la si paragona si possono fare delle sottolineature, trovare dei punti in comune o dei punti appunto di differenza. Qui secondo me è veramente tirare in ballo qualcosa che a mio avviso nasconde altro, cioè non c'entra nulla con la libertà di scelta e con la dittatura, non siamo sotto una dittatura assolutamente e anzi siamo fortunati di poter vivere, gli ebrei non avevano diritto di vivere, ci sono tante storie di bambini che racconto, bambini che potevano vivere, neonati che sono stati caricati su un treno e mandati a morire, cioè che uno mi spieghi cosa c'entra al Green Pass e qual è appunto la consonanza che vuole trovare. Laura grazie mille per questo ultimo intervento in generale, insomma per tutto il racconto che ci hai fatto e in bocca al lupo per il tuo libro. Grazie mille, viva il lupo, grazie. Noi adesso prima di salutarci, prima della sigla finale, lasciamo spazio alle nostre rubriche, la carta d'identità delle associazioni con cui raccontiamo velocemente le associazioni del nostro territorio, insomma per avere uno sguardo veloce sulla loro attività e poi come sempre Silvia Forassassi di Volontà Romagna con gli appuntamenti del mondo delle associazioni, poi la sigla e noi ci vediamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Come se fosse facile. Buona serata. Anche oggi parto invitando a guardare i video delle associazioni che hanno partecipato all'iniziativa Volontariato, Ambiente, Riciclo e Riuso, ognuno a suo modo. Sono 23 video di 30 secondi visibili sui canali social di Volontà Romagna, Instagram e Facebook che appunto raccontano quello che fanno le nostre associazioni per sensibilizzare al rispetto della natura, un tema che indubbiamente è sempre più urgente nella società attuale. Con un mi piace si potrà contribuire a rendere più visibili questi prodotti e anche a far conoscere un po' di più quello che fanno le nostre associazioni. Quindi cliccate mi piace e andate a vedere i video. Poi un altro appuntamento sicuramente importante, questo per il mondo del terzo settore, per in particolare le associazioni di volontariato e di promozione sociale, infatti ha preso avvio il RUNS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il 23 novembre Cantiere Terzo Settore sui propri canali social organizza un momento informativo per orientare appunto su quelle che saranno le novità che investiranno appunto il Terzo Settore con l'avvio del registro. Veniamo agli appuntamenti della settimana. Il 20 novembre l'associazione Menecor invita a Coriano grandi e piccini a un'esperienza in natura. Mentre i più piccoli saranno invitati ad osservare il bosco e il museo delle foglie, i grandi potranno sperimentarsi nella raccolta delle erbe di stagione. Abbiamo poi Lilt for Men, la campagna appunto della Lilt finalizzata a sensibilizzare alla prevenzione al tumore alla prostata. In particolare l'associazione organizza il 24 e il 25 novembre visite gratuite per uomini tra i 50 e i 70 anni. Il 25 novembre poi è la giornata internazionale contro la violenza alle donne e in provincia tantissime associazioni organizzano iniziative di vario tipo proprio per sensibilizzare al tema. Il programma sarà presto visibile insomma anche nei canali informativi di Volontà Romagna e anche in questo caso avremo un po' la possibilità di partecipare ad iniziative di vario genere, incontri di sensibilizzazione e momenti informativi. lunedì poi abbiamo il 22 e in occasione della patrona dei musicisti Santa Cecilia Rimini Classica organizzerà un concerto al Teatro Galli mentre dal 23 al 28 novembre torna nelle diverse sale cinematografiche di Rimini a Marcort Film Festival, appunto la rassegna cinematografica dedicata ai corti che anche vuole in un qualche modo celebrare Fellini. Poi una bella iniziativa dell'associazione Quattro Quarti anche quest'anno infatti è promosso il progetto per dare vita a una grande orchestra giovanile. Infatti l'associazione si rivolge a ragazzi dai 10 ai 19 anni che hanno voglia appunto di imparare a suonare insieme. Concludo dicendo che è riaperto anche il guardaroba solidale di Casa Madiba lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 e il mercoledì dalle 16 alle 20. Un'importante iniziativa a sostegno delle famiglie che sono, che vivono un momento di difficoltà economica ma anche rivolto alle persone senza fissa dimora. Come sempre ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le segnalazioni della rubrica sono riportati nel dettaglio sul sito www.volontarimini.it. Grazie. Associazione Arcobaleno ADV è un'associazione di volontariato che opera su tutto il territorio della provincia di Rimini, si occupa di intercultura e migrazione. Facciamo supporto, consulenza e ascolto su tutti quelli che sono i temi legati ai processi migratori ma soprattutto ci occupiamo di didattica della lingua italiana. Diciamo che i nostri utenti hanno dai 6 anni in su, quindi ci occupiamo dell'inserimento scolastico dei bambini con background migratorio all'interno degli istituti scolastici di tutta il circondario e ci occupiamo della lingua italiana per gli adulti. Associazione Arcobaleno fa anche da capofila per il progetto Casa dell'intercultura Aylan Kurdi e quindi ha questa funzione diciamo di centro interculturale per tutto il territorio del distretto.